ciao guerrieri di luce ciao io sono giosuè e io sono valerio e questo è spiritual podcast lo spazio dove parliamo di spiritualità crescita personale sciamanesimo esoterismo e lo facciamo sempre partendo da un libro e oggi abbiamo deciso di giocare in casa si suol dire così in questi casi si dice proprio così perché abbiamo scelto un mio libro che è cristalloterapia l'arte di guarire con le pietre facciamolo vedere questo è un libro che trovate per chi fosse interessato su amazon sia in formato cartaceo che in formato ebook ed è un manuale molto completo su tutto il mondo della cristalloterapia e anche su sulle varie proprietà delle pietre unite anche ad un approccio più sciamanico diciamo la particolarità del libro è proprio questa si hai detto proprio bene perché il libro nasce proprio dal desiderio di unire la cristalloterapia tradizionale alle tecniche sciamaniche e quindi allo sciamanesimo l'idea è quello di non vedere le pietre solo come strumenti di guarigione ma di vedere queste pietre anche come dei veri e propri alleati dei portatori di saggezza dei portatori di consiglio tanto che all'interno del libro viene regalata scaricabile una meditazione guidata che è condotta da te che è creata da te condotta da te dove le persone tramite visualizzazione tramite un viaggio sciamanico guidate vengono portate a incontrare appunto lo spirito del cristallo perché a livello sciamanico è una cosa molto importante a livello sciamanico tutto ha uno spirito e quindi anche le pietre avendo uno spirito queste pietre possono diventare dei veri e propri alleati per la nostra vita diciamo che la modalità sciamanica ci permette di potenziare maggiormente di di dare un upgrade importante nell'utilizzo dei cristalli quindi se magari normalmente la gente comune utilizza i cristalli in base al chakra in base alle proprietà che possono avere che possiamo trovare in molti libri chiaramente in questo testo viene insegnato come mettersi in ascolto della pietra assolutamente sì gesù è il libro è diviso in due parti infatti la prima parte proprio cercare di far capire alle persone cosa significa occuparsi di cristalloterapia a livello sciamanico e quindi ci sono degli strumenti ci sono degli esercizi delle informazioni che servono proprio a queste la seconda parte invece del libro sono le classiche schede di ogni minerale e quindi ogni minerale viene osservato a 360 gradi vengono date quelle informazioni che per alcuni sono ritenute noiose no che sono le informazioni di come si è formato il cristallo da dove proviene e poi tutte le altre invece che riguardano gli utilizzi in cristalloterapia i benefici delle pietre le varie associazioni che possono essere dal segno zodiacale ai chakra passando magari per le professioni che sono in connessione con queste con le varie pietre volendo diciamo mettere a fuoco per bene quali possono essere le differenze più sostanziali da un approccio ai cristalli tradizionale piuttosto che un approccio di tipo sciamanico che cosa ci rispondi alla ti potrei rispondere in breve che l'approccio tradizionale di cristalloterapia un approccio tramite la mente mentre l'approccio sciamanico è un approccio tramite bypassare la mente per arrivare direttamente al cuore per fartela breve per fartela pratica per esempio possiamo dire la differenza tra una scelta di una pietra a livello di cristalloterapia tradizionale con la cristalloterapia invece sciamanica unita allo sciamanesimo nel senso che a livello tradizionale ovviamente si utilizza la ragione quindi si vanno a studiare le varie caratteristiche dei minerali e poi una persona la sceglie questo viene fatto anche a livello sciamanico e non è un caso che viene chiamata la pietra della ragione no in questo caso proprio perché viene scelta a livello razionale ma ci sono altri metodi che possono essere più o meno validi ma questo lo deve decidere l'operatore colui che utilizza quella quella pietra perché a livello sciamanico la differenza avviene se il risultato è quello sperato quindi io potrei utilizzare un metodo che non risuona in me e magari un metodo ritenuto valido per tutti gli altri ma non ha risonanza con me e quindi non è il metodo che devo utilizzare detto questo un altro metodo utilissimo a livello sciamanico è quella che viene chiamata la scelta della pietra della coscienza che avviene tramite la vista e quindi si guarda si guardano le nostre pietre i nostri minerali che possono essere tutti di un solito minerale o minerali di diversi tipi quindi ambria mitiste e quelli che ho e vado a sceglierle in base alla vista cioè mi devo mettere sempre in ascolto del cuore ma tramite la vista vado a scegliere il minerale che risuona più a me che per qualche motivo mi attira a lui che non deve che non è necessariamente un motivo di testa anzi ma è un motivo proprio dal che viene dal cuore poi c'è anche la pietra dello spirito no poi mi è piaciuto il fatto che tu hai voluto dare anche un nome alla modalità di come scegliere una pietra sottolineando il fatto che chiaramente se io la scelgo con in base alle sue caratteristiche oggettive didattiche senz'altro è la pietra della ragione no certo la pietra della coscienza è una pietra che si sceglie a livello intuitivo ma probabilmente la vista ci mette in connessione con il terzo occhio e anche con la ghiandola pineale che è strettamente connessa alla coscienza mentre la pietra dello spirito è la pietra dello spirito è una pietra che viene scelta tramite l'imposizione delle mani sulle varie pietre a occhi chiusi ovviamente però senza toccarla senza toccarla assolutamente e quella toccandola un'altra pietra poi ne parleremo dopo ma in questo caso proprio percepirò delle delle sensazioni delle energie potrebbe essere un formicolio un cambio di temperatura qualcosa che mi fa capire a livello intuitivo che quella è la pietra per me e quindi è una scelta senza tatto senza niente cioè proprio imponendo la mano sulle pietre sui minerali mentre la pietra del corpo la pietra del corpo di cui abbiamo accennato prima è quella che viene scelta attraverso il tatto e quindi chiuderò gli occhi ma questa volta prenderò le varie pietre in mano no e anche qui cercherò di percepire che cosa mi trasmettono che cosa hanno da dirmi quando l'ho trovata quella sarà la mia pietra del corpo una cosa che ci tengo a specificare che queste tecniche sono tutte tecniche come abbiamo detto valide ognuno deve trovare la propria la propria tecnica ma possono essercene tante altre di tecniche l'importante che risuoni sempre con noi possono essere anche combinate possono essere anche combinate assolutamente sì anzi cosa c'è di meglio di combinare magari due tipi di scelte perché in base anche al mio sentire del momento non è che deve utilizzare sempre il solito metodo di scelta a volte magari ho necessità di utilizzare un metodo perché devo andare a fare qualcosa in cui la ragione e quindi l'utilizzo della testa è importante quindi andrò a scegliere la pietra tramite ovviamente le sue caratteristiche o tramite di vari gli altri strumenti in base a quello di cui ho bisogno in quel momento io Giosuetti ho spiegato i metodi che io ho proposto in questo libro te hai qualche metodo che preferisci allora io volendo dire proprio la verità non utilizzo tantissimi minerali ne utilizzo alcuni probabilmente sono anche quelli più famosi il mio cristallo preferito è il quarzoialino poi quando ho iniziato il quarzo degli sciamani infatti quando ho iniziato poi a studiare il sciamanesimo sono rimasto sorpreso del fatto che è una pietra utilizzata in tanti lignaggi sciamanici no e qui mi rallaccio anche al fatto che dicevi prima cioè che ogni cristallo ha uno spirito ha una sua intelligenza così come ogni pianta tutto ciò che esiste a uno spirito è un una sua intelligenza e quindi gli sciamani hanno da sempre utilizzato questi alleati minerali anche nelle loro pratiche per esempio c'è ci sono modalità attraverso le quali fare delle estrazioni sciamaniche proprio utilizzando il cristallo di rocca al quarzoialino per cui entrando in comunione con lo spirito del cristallo si chiede di assorbire al suo interno dato che sono molto utili questi cristalli proprio per andare ad assorbire le energie e solitamente questo si fa appunto nelle pulizie energetiche si chiede al cristallo di compiere questa pulizia energetica questa purificazione dopodiché il cristallo si andrà chiaramente a purificare a liberare da tutto ciò che è assorbito e questa è una modalità sciamanica attraverso i quali si utilizza si utilizza i cristalli un'altra modalità è quella per esempio abbinata al recupero dell'anima molti sciamani che magari si trovano a fare dei trattamenti a distanza quindi delle guarigioni sciamaniche a distanza a volte utilizzano proprio i cristalli come conduttori come portatori no in questo caso di frammenti di anima per cui invece di soffiare il frammento di anima direttamente nel cuore della persona che magari non ha la possibilità di essere lì con noi in quel momento lo si fa sul cristallo quindi si va a soffiare il frammento di anima sul cristallo e poi dopo si regala questo cristallo alla persona che ha ricevuto la guarigione questa è un'altra modalità sciamanica poi possiamo dire per esempio Gesù è che a livello teorico di cristalloterapia più o meno ogni cristallo ha il suo metodo per essere purificato per essere ricaricato a livello sciamanico questa cosa è un pochino più elastica nel senso che anche qui si utilizza il nostro sentire quindi da tutti i metodi che anche qua possono essere tutti validi di purificazione e di ricarica dei minerali facciamo degli esempi possiamo utilizzare l'acqua l'acqua corrente per purificarlo l'esposizione al sole o alla luna per ricaricare i vari minerali si possono utilizzare delle druse sono tutti metodi validissimi il metodo sciamanico è di trovare il metodo che risuona di più con noi e in più poter utilizzare magari il viaggio sciamanico e quindi le tecniche sciamaniche che come abbiamo detto ci servono per entrare in contatto con lo spirito della pietra stessa per chiedergli come deve essere purificata come deve essere ricaricata ma anche che utilizzo posso fare di lei sia per guarire sia magari per altre pratiche che in quel momento non conosco e che magari il minerale stesso mi potrebbe trasmettere sì anche per esempio nella meditazione scaricabile per chi acquista il libro gratuitamente c'è proprio questo viaggio che viene indotto all'ascoltatore che lo porta proprio a entrare in contatto con lo spirito della pietra e chiedergli a un certo punto anche qual è il suo potere perché è vero che ogni diciamo tipologia di pietra per esempio non so il quarzo rosa sappiamo tutti che infonde calma tranquillità è molto utile per portare serenità emotiva però è anche vero che ogni cristallo di quarzo rosa è qualcosa di unico così come ogni individuo è unico per cui avrà senz'altro dei poteri delle abilità speciali rispetto magari ai suoi simili e l'approccio sciamanico ci aiuta proprio a scoprire quali sono i doni speciali di ogni singolo cristallo eh sì perché questa la tecnica sciamanica fa sì che proprio possiamo entrare proprio nell'intimo della pietra entriamo proprio in connessione con lei c'è un rapporto quasi di amore con queste pietre tramite queste tecniche possiamo apprendere delle cose che nella cristaldoterapia tradizionale non è possibile proprio perché viene utilizzato solo lo strumento della ragione sì diciamo anche che comunque sempre più persone stanno prendendo consapevolezza dell'importanza di fare una scelta non soltanto a livello razionale ma proprio a livello del sentire infatti mi è capitato spesso di andare per esempio in dei negozi esoterici o che vendevano anche solo esclusivamente dei minerali dove gli operatori insomma le persone addette alla vendita guidavano le persone nella scelta utilizzando proprio alcuni di questi metodi che tu hai elencato e quindi sentire l'energia della pietra col tatto o percepire l'energia della pietra attraverso la vista o attraverso l'intuito o attraverso l'energia cioè ognuno poi trova chiaramente la sua la sua via o anche attraverso l'utilizzo del pendolino quindi chi magari all'ascolto e utilizza solitamente per fare delle divinazioni il pendolino questo strumento può essere estremamente utile anche per capire se un minerale è adatto a noi se risuona con la nostra energia anche questo possiamo in qualche modo definirlo un metodo sciamanico assolutamente sì diciamo che questi metodi non è che li ho inventati io sono dei metodi che esistano da sempre ovviamente magari l'osservazione che ho fatto io è un'osservazione a livello sciamanico ma magari che anche altre tradizioni utilizzano perché ricordiamo che le tecniche sciamaniche sono alla base di tutta la spiritualità poi alla fine perché tutte le religioni sono nate poi dallo sciamanesimo ritornando alla pratica della purificazione perché sappiamo che i cristalli assorbono l'energia quindi ricordiamo sempre che è importante purificarli ogni volta che vengono utilizzati devono essere purificati per liberarli proprio dall'energia che hanno assorbito e renderli nuovamente attivi definiamo così io per esempio quando devo purificare in modo profondo un cristallo che magari ha fatto un lavoro importante lavoro per esempio di estrazione di energie disarmoniche sento proprio la necessità di seppellirlo nella terra e questo è chiaramente un metodo molto utilizzato dagli sciamani che serve sia per purificarlo ma anche per caricarlo i tempi anche in cui il cristallo deve stare sotto terra queste informazioni si ricevano attraverso il viaggio sciamanico quindi si fa un viaggio sciamanico si chiede direttamente allo spirito del cristallo che tipo di purificazione deve essere fatta e come in questo caso quanto tempo deve stare seppellito il cristallo nella terra solitamente una lunazione però diciamo sempre che ogni cristallo richiede tempistiche diverse non è sempre detto che sia così e dicevo appunto che questo sistema serve proprio per sia purificare che caricare il cristallo perché una volta che si sarà liberato di tutte le energie disarmoniche le rilascerà proprio nel cuore di madre terra subito dopo assorbirà l'energia pulsante della terra che è un'energia veramente potente un'energia espansiva e di guarigione e mi sono proprio reso conto attraverso la pratica che quando utilizzo i cristalli dopo che l'ho tenuto seppelliti nella terra hanno un potere importante cioè si sente proprio un'energia completamente diversa molto più potenziata quali altri metodi diciamo esplori nel libro consigli nel libro partendo sempre dal presupposto che io non ho un metodo migliore dell'altro che preferisco rispetto agli altri perché utilizzo il metodo che ritengo più indicato in quel momento però diciamo che se devo purificare una purificazione leggera una purificazione da tutti i giorni utilizzo tranquillamente la salvia bianca o il palo santo quindi la fumigazione assolutamente se invece devo fare qualcosa di veramente strong allora utilizzo l'intento sciamanico che può essere sia tramite una semplice meditazione magari prendendo il cristallo prendendolo tra le mani e quindi con l'intento nella meditazione cercando di purificarlo mentre medito mi potrebbero arrivare delle intuizioni che possono essere di posizionare magari il cristallo per terra per farlo scaricare però non ho una tecnica specifica sì poi c'è da dire che chiaramente le pietre possono anche rovinarsi alcune a contatto con l'acqua altre a contatto con la luce solare per esempio l'ametista perde il suo colore no se è tenuta troppo sotto la luce del sole e solitamente queste tecniche vengono sconsigliate però ecco io ci tengo a specificare che vengono sconsigliate semplicemente perché vanno un po' a rovinare la pietra ma questo non incide sul potere che poi si vanno a rovinare a livello estetico ovviamente se l'ametista io la tengo al sole perde di colore e quindi non avrà più quel viola brillante ma tenderà sempre al rosino fino a fino quasi a scomparire diventare chiara però se la pietra a livello sciamanico mi ha detto che deve essere ricaricata in quel modo perché non farlo e poi può essere anche che ogni pietra abbia diciamo una sua durata di utilizzo arriverà senz'altro momento in cui la pietra diciamo ha finito il suo corso ci ha dato tutto quello che ci poteva dare in quel caso è molto bello restituirla in natura sì perché anche se le abbiamo comprate ma le pietre non appartengano a noi le pietre appartengono a madre terra appartengono all'universo e quindi pensiamo a quanto è lunga la vita di una pietra rispetto alla nostra la nostra è un battito di ciglia quindi quella pietra starà con noi per un periodo un brevissimo periodo nella sua esistenza ma poi deve ritornare all'universo quindi quando questa pietra sento che ha terminato che non ha più quelle energie che aveva all'inizio o magari si spezza e devo riconsegnarla alla natura perché è il suo posto quindi non devo essere egoista in quel senso e dire ah ma ho speso tanto per questa pietra o mi piaceva tanto che la tengo ancora e magari non la uso più e la tengo rilegata da qualche parte dove va nel dimenticatoio no devo ridarla alla natura altri metodi diciamo che possono essere un po' più sciamanici e anche l'utilizzo della piramide no quindi posizionarli all'interno di una piramide per un lasso di tempo sia per purificarla ma anche per caricarla oppure all'interno di una genesa quindi sono strumenti che chiaramente catalizzano un certo tipo di energia che sono ottimi per questo tipo di approccio per purificare e caricare le pietre o anche dei semplici circuiti radionici per chi è appassionato di radionica sì possiamo anche aggiungere il suono che è molto importante nella purificazione il suono che può essere tramite una campana di cristallo tramite una campana tibetana ma anche più semplicemente tramite i suonagli o il tamburo tanto caro allo sciamano sì anche il suono diciamo gli dà un potere importante e nella modalità sciamanica che tu illustri in questo in libro si capisce anche l'importanza di informare la pietra dargli un intento soprattutto se vogliamo in qualche modo utilizzarla in una maniera più espansa e quindi far sì che un minerale sia un vero alleato faccio un esempio se ho bisogno di una pietra che mi protegga dalle negatività esterne perché magari lavoro in un ambiente molto stile e ogni volta che torno a casa mi sento scarico sento di essere attaccato essere stato attaccato a livello energetico portare con sé un minerale adatto alla protezione che può essere l'ossidiana la tormalina nera ma anche lo stesso occhio di tigre può essere un grande aiuto però è importante trasmettere l'intento alla pietra quindi dare l'informazione a livello energetico che deve schermarci o deve assorbire per noi le energie disarmoniche esterne questa è la cristalloterapia sciamanica e quindi l'utilizzo di una pietra adatta per la protezione hai fatto l'esempio della tormalina nera dell'ossidiana ma non basta questo e quindi utilizzare le tecniche sciamaniche come hai appena detto per dargli un intento è una cosa che voglio aggiungere qua che può essere una cosa simpatica da fare possiamo dare un intento a una pietra se sappiamo fare il viaggio sciamanico e poi donare questa pietra a una persona che ne ha bisogno quindi in base a quello di cui questa persona ha bisogno certo assolutamente sì è una persona depressa faccio un esempio e ha bisogno di energia di vitalità di ottimismo possiamo prendere un bellissimo quarzo citrino che è collegato al sole ma è collegato anche al plesso solare quindi il plesso della volontà della forza della determinazione e fare un lavoro sciamanico per trasmettere a quel minerale l'intento di portare gioia di portare la luce del sole nella vita di quella persona e poi regaliamo questa pietra gli facciamo un dono meraviglioso e sì qui hai unito appunto le due tecniche hai scelto quel minerale perché a livello razionale ha quelle caratteristiche ma poi hai utilizzato l'intento sciamanico e quindi gli hai trasmesso cosa deve fare gli hai dato questo acceleratore sì io diciamo che la scelta attraverso la ragione la utilizzo spesso quando voglio utilizzare le pietre e mi leggo anche ai colori delle pietre che poi sono associati anche ai sette chakra sappiamo per esempio che le pietre di colore nero le pietre di colore rosso agiscono a livello del primo chakra e quindi possono dare protezione come nel caso della turmalina nera dell'ossidiana dell'opale nero ma possono anche dare energia forza vitalità e quindi possono essere adatte a quelle persone che hanno proprio il primo chakra scarico e hanno poca energia vitale per un motivo per un altro oppure non so le pietre di colore arancione o che tendono a rosa sono legate alle emozioni al secondo chakra e se è un periodo della mia vita in cui le mie emozioni sono in subbuio io posso utilizzare una pietra di quel colore informarla attraverso un lavoro sciamanico dargli l'intento di portarmi calma a livello emotivo a livello emozionale e utilizzarla proprio come un vero e proprio alleato un vero e proprio spirito guaritore sul quale posso fare assolutamente affidamento una domanda interessante probabilmente per tutti quelli che sono in ascolto è quali secondo te sono i cristalli che non devono mai mancare no i must have sappiamo che ci sono tantissimi cristalli in questo libro veramente ne vengono elencati alcuni io manco sapevo l'esistenza ti dico la verità però tra questi tu stesso avrai degli eletti no dici questi non ne posso assolutamente fare a meno quali sono allora io solitamente con me diciamo nel mio sacchettino di medicina c'è sempre una pietra di protezione una pietra da meditazione è una pietra per attirare ricchezza ma intesa non solo come ricchezza materiale che fa sempre comodo anche quello ma per attirare anche ricchezza a livello spirituale diciamo che per protezione le pietre che preferisco in assoluto sono l'ossidiana che amo questo caso l'ossidiana si chiama minerale ma è più un vetro un vetro vulcanico no però fa parte sempre dei minerali che poi ha una pietra molto cara allo sciamanesimo del messico al sciamanesimo del tolteco proprio perché in quella terra c'è grande produzione di questo minerale poi per attirare ricchezza possiamo dire l'avventurina e da meditazione una pietra da meditazione che amo tantissimo e che secondo me è un must have l'ametista che tra l'altro aiuta anche a dormire bene quindi tenere una piccola drusa diametista sul comodino aiuta ad avere un sogno tranquillo ma anche facilita la comprensione dei sogni e quindi quando ci svegliamo è più facile se abbiamo una drusa diametista sul comodino ricordarci anche i sogni che abbiamo fatto quindi per tutti coloro che lavorano non so con i sogni lucidi o che danno molta importanza ai simboli che ricevono il sogno può essere un alleato veramente interessante prima ti ho sentito che hai parlato di drusa una cosa importante da specificare sulle druse visto che ne abbiamo parlato in questo caso diametista che è un ottimo strumento per la purificazione per la ricarica delle varie pietre quindi se io ho una drusa la posso utilizzare mettendoci sopra altre pietre per essere purificate poi ricaricate un'altra pietra che secondo me non dovrebbe mai mancare più che altro nelle case è la sciungite che è una pietra che ha proprio la facoltà di proteggerci dai campi elettromagnetici e chiaramente in ogni nostra casa con tutti i dispositivi elettrici che abbiamo siamo esposti a molti campi elettromagnetici e quindi solitamente vendono delle sfere o delle piccole piramidi di sciungite anche piastre da mettere in prossimità del computer o del televisore noi ne abbiamo un po' in casa perché appunto sentiamo che c'è un beneficio cioè l'energia cambia quando noi utilizziamo questi strumenti come protezione anche da da fonti elettromagnetiche hai parlato della sciungite e della piramide io per esempio quando lavoravo tanto in auto avevo una piramide di sciungite posizionate in auto perché eri sempre al telefono perché ero sempre al telefono e sempre e sempre in auto e quindi sempre in mezzo a dispositivi elettronici perché anche quando sei in coda in mezzo alle città immaginate una cosa che bisogna però ricordare sulla sciungite che ne esistono di diversi tipi c'è la sciungite tipo 1 tipo 2 tipo 3 e la sciungite elite ovviamente più costa più è pura e quindi maggiore più potente prima Josué di concludere ti volevo fare una domanda sulla pietra dell'animale di potere che cosa ci puoi dire di più beh io ce l'ho sempre con me per esempio che all'occhio di tigre porto un braccialetto di occhio di tigre o un ciondolo di occhio di tigre perché la pietra del mio animale di potere è l'occhio di tigre non solo per associazione chiaramente ovvia essendo una tigre occhio di tigre ma soprattutto perché è stato lo spirito dell'animale stesso a dirmelo e quindi attraverso un viaggio sciamanico ho ricevuto questa rivelazione per cui chi che si occupa di sciamanesimo chi è già in contatto con i propri spiriti alleati con i propri animali di potere potrebbe essere interessante proprio fare un viaggio sciamanico e andare a chiedere direttamente al proprio animale guida qual è la sua pietra e cosa vuol dire la sua pietra vuol dire una pietra che io posso utilizzare come un vero e proprio amuleto di protezione che mi connette costantemente al mio animale guida quindi toccandola osservandola posso portare l'attenzione sul cuore magari fare sul momento una richiesta al mio animale guida che ricordo sempre rispondono in maniera incredibile però ovviamente bisogna crederci quindi possiamo dire che è una pietra di connessione con il nostro animale di potere rafforza il rapporto con lui e fa sì che come ha detto te tramite il tocco tramite il tatto possa mettermi in contatto direttamente con lo spirito mio animale di potere senza necessità o bisogno di fare il viaggio sciamanico in quel momento diciamo ti aiuta a entrare in contatto in gergo sciamanico tutti quelli che possono essere definiti degli amuleti dei talismani sono degli oggetti di potere che hanno una funzione prettamente simbolica quindi l'importanza dell'oggetto di potere non è tanto il potere magico che noi conferiamo il potere magico è sempre dentro di noi ma quell'oggetto a livello simbolico a livello evocativo ci trasmette delle cose che ci dà la possibilità di far emergere tirar fuori il nostro potere sciamanico quindi ogni sciamano ha i suoi strumenti di potere che può essere il tamburo già di per sé o può essere non so un cristallo una pietra un pugnale una lancia una piuma ognuno ai suoi strumenti bene josue non so se ti volevi aggiungere altro di su questa puntata su sul mio libro che dire chi fosse interessato lo trova su amazon sia in formato cartaceo come questo sia in formato ebook chiaramente consigliamo essendo un manuale da consultare al bisogno e quindi da sfogliare consigliamo chiaramente il formato cartaceo ed è veramente un libro ben fatto il libro per farci stare più informazioni possibile che non è un libro illustrato ma c'è un file scaricabile dove sono illustrate tutte le pietre quindi ci sono anche tutte le immagini sì non solo nel libro perché prendeva uno spazio e ovviamente fare un libro a colori a un costo diverso e non aveva logica no farlo a colori farle le immagini in bianco e nero non aveva la logica perché chiaramente in bianco e nero non si sarebbero potute capire che da che pietre si riferivano e quindi ho allegato anche in questo caso un file scaricabile dove sono illustrate proprio tutte le pietre trattate nel libro bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questa puntata incentrata sul mondo della cristalloterapia fateci sapere nei commenti quali sono i vostri cristalli preferiti che utilizzo ne fate e qual è il metodo che utilizzate per purificarli o caricarli se vi è piaciuto questo video fatecelo sapere con un pollice in su e se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo podcast ciao 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 ciao